Amici di Risoluto, buona domenica, allerta meteo oggi nel territorio di Sciacca fino alle 12 di questa notte, quindi fino alla mezzanotte per temporali e raffiche di vento. E cambiamo argomento, parliamo di emergenza Covid. A Ribera è scattato l'allarme a causa di tanti positivi al test di monitoraggio sulla popolazione studentesca. Il sindaco Matteo Ruvolo ha deciso di chiudere le scuole di competenza comunale fino al 22 di dicembre. Intanto anche a Sambuca dove si sono effettuati altri test rapidi sono risultati 7 persone positive, pertanto sono stati avviati test di controverifica con il molecolare. Infine, cambiamo decisamente argomento, notizie molto più leggere dallo spettacolo, Azzurro Food torna con una versione invernale e una formula adattata al momento, quindi delle giornate, tre giornate in streaming con tanti chef e ovviamente per esaltare sempre le grandi peculiarità della cucina mediterranea. Tutto questo e molto altro sempre su risoluto.it